Ignazio Moser abbandonerà il grande fratello VIP2 Cosa è successo nelle ultime ore nel reality di Canale 5 Ignazio Moser abbandonerà il grande fratello VIP2 Il popolo di Twitter e in generale dei social è in subuglio. Cosa è successo nel reality condotto da Hillary Blasi Come mai il bel ciclista sta pensando di ritirarsi dal gioco Ebbene leggendo tutti i cinguetti, oltre a verificare come ci siano tantissime persone Che guardano la diretta live dalla casa 24 ore su 24 Si apprende anche di una strana frase sussurrata all'orecchio di Cecilia Rodriguez Per preparare l'amata al possibile abbandono A causare l'uscita di scena sarebbero quindi problemi al ginocchio E il forte dolore che il ragazzo avverte E maggiore 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 Leggi qui tutte le news sul GF VIP E i suoi protagonisti Ignazio Moser Grande fratello VIP2 Il ginocchio lo spinge all'abbandono Abbandono del reality o uscita temporanea Entrambe le voci si rincorrono sul web C'è chi pensa che Ignazio Moser possa dire addio al grande fratello VIP2 Ed attendere la sua nuova fidanzata fuori dalla casa Per potersi così curare il ginocchio in tutta calma E farsi visitare da specialisti C'è, invece, chi pensa ad una uscita lampo E sottolinea che è già accaduto Non molti giorni fa Anche a Lorenzo Flaherty Si può uscire, infatti, dalla casa del grande fratello VIP2 Per sottoporsi ad accertamenti medici Senza dover essere squalificati dal gioco La produzione del programma si occupa di seguire il concorrente passo dopo passo Assicurandogli sempre le cure migliori Cosa accadrà quindi nelle prossime ore In attesa di scoprirlo C'è chi sta pensando a come possa essersi fatto male il giovane Il ciclista è stato visto cadere e a medicargli il graffio riportato Ci ha pensato Cristiano Malgioglio Ma nessuno pensava potesse essersi fatto così tanto male Grazie a Malgioglio la situazione è diventata Infatti, subito alquanto comica e nessuno ha capito quanto male potesse essersi fatto il giovane Grande fratello VIP Ignazio Moser 20 milioni e 170 mila 830 diritti d'autore Massimo Sestini Ignazio Moser Grande fratello VIP2 C'è chi chiede l'espulsione sempre in queste stesse ore C'è però chi chiede l'espulsione di Ignazio Moser Cecilia Rodriguez dalla casa del grande fratello VIP2 Peratio Shen in un luogo pubblico Quanto successo qualche sera fa nell'armadio Ha portato diversi telespettatori e utenti a segnalare alla produzione del reality Come quanto accaduto vada contro ogni regola Sempre in questo ambito va segnalato Infine, che le hashtag Cecilia Ignazio fuori nelle ultime ore Ha raggiunto la prima posizione su Twitter Diritti d'autore Tutti diritti riservati Vietata ogni forma di riproduzione Metti mi piace a Urban Spettacolo